Direttore Ernesto Puzzo, un gladiador che si prepara l'esordio in campionato, saltata la Coppa Italia, ci si concentra sull'Aprilia, un avversario subito, ostico, ma sarà un girone complicato. Il girone è un bel girone, però dove si predilige giocare a calcio, quindi noi potremmo dire la nostra in modo importante, anche perché le amichevole che abbiamo fatto ci dicono queste cose qui, stiamo bene, andremo sempre a migliorare sicuramente. Anche oggi abbiamo disputato un'ottima gara, bella veramente, perché poi quando vedi giocare il calcio in modo bello, aperto, tranquillo, con grandi situazioni tecnico-tattiche, allora ti diverti. Anche se abbiamo vinto soltanto per 1-0, però occasioni innumerevoli, qualcuna sprecata, ma non fa niente. L'importante è arrivarci, l'importante è stare bene, l'importante è che stiano tutti sul pezzo, perché, ripeto, fino alla noia noi abbiamo veramente uno staff tecnico molto importante. Non lasciano niente al caso e certe situazioni di gioco veramente si vedono soltanto a livelli di categorie superiori. Abbiamo iniziato anche a rivedere il pubblico, adesso ci dobbiamo riabituare ai tifosi, per fortuna, che potranno assistere agli incontri casalinghi e allora appuntamento a domenica per questa prima sfida con il pubblico amico alle spalle. Sarà una sorpresa lieta per tutti, perché ormai eravamo disabituati a vedere il pubblico negli stati, quindi iniziamo in casa con il nostro pubblico e so che è un pubblico importante, che ci darà la spinta, ma la spinta ce la stiamo dando noi con dei ragazzi veramente professionisti e quindi questo è un buon viatico per tutto il campionato, ma sicuramente in più l'aiuto del pubblico dovrebbe fare il resto.